Ecco, dicevo che lo facciamo anche cercando di fare entrare in questo palazzo le idee, le nuove idee sulla globalizzazione, sull'economia e lo abbiamo fatto recentemente invitando dei premi Nobel, abbiamo invitato Muhammad Yunus, il microcredito, il social business, abbiamo invitato Josef Stiglitz e anche da ultimo l'economista Thomas Piketty. Ecco, le giornate del libro politico a Montecitorio mirano allo stesso risultato, cioè quello di presentare e discutere savgi, ricerche, analisi storiche che vengono proposte dagli editori e che riguardano anche la riflessione politica e l'azione politica contemporanea. Ed è importante, proprio per questo, che questa manifestazione avvenga qui, qui nella sede del Parlamento, perché il Parlamento deve saper cogliere le idee e tutto quello che viene prodotto dalla società civile.